Vi parlerò delle barbe delle persone che dicono alle donne, dicono a questi uomini che tenono le barbe. No, sa credere che quella è virilità. Ma quale virilità? Noi ci vuole l'anerchie, non la barbe. Ci vuole l'anerchie, che le barbe. Quale virilità? Alla fine, la prova della verità è sempre l'anerchie. Sì, ma riportando... Se volete capire, tagliate le sue barbe, non potete fare... Manca una scarpetta, lo viate, che vi fozzo tutto il sepile. Come facete? Puzzate, fatevi le barbe, cercate di essere ragazzi, giovani, anziani, puliti, belle. Ma non c'è la virilità, quale virilità? Alla fine, senza l'anerchie, non c'è. Andiamo avanti. Riportato sul Pescara.